La parola al Presidente dell'Aggiunta regionale e poi passiamo al voto del primo e poi del secondo documento. Il formale impegno dell'Aggiunta regionale è di dare attuazione ai progetti del Masterplan, riferendo periodicamente in Consiglio regionale del loro stato di avanzamento. Questo l'esito del Consiglio straordinario dedicato ieri al Masterplan per il Sud, il grande piano finanziato con fondi europei e statali, che prevede in Abruzzo, una tempistica serrata nei prossimi anni, 77 interventi dal valore di 1,5 miliardi di euro. La richiesta è stata formalizzata in un documento di maggioranza a firma dei consiglieri Camillo D'Alessandro, Alessio Monaco, Luciano Monticelli, Alberto Balducci, Sandro Mariani, Silvio Polucci, Lucrezio Paolini, Lorenzo Berardinetti e Mario Olivieri. Le opposizioni di centrodestra e Movimento 5 Stelle non hanno però risparmiato critiche nel merito e nel metodo all'iter che ha portato all'individuazione degli interventi previsti nel Masterplan, senza una vera strategia di lungo termine. E sia Mauro Febbo di Forza Italia che Saramarcozzi del Movimento 5 Stelle hanno evidenziato che tutto quasi nella partita del Masterplan è stato di fatto deciso da Luciano D'Alfonso e pochi altri suoi fedelissimi. A replicare con vemenza lo stesso presidente D'Alfonso, che invece ha illustrato le strategie complessive che hanno portato a individuare i singoli interventi, scelti, ha ricordato il presidente, in base alle priorità indicate in autonomia da ciascun territorio, accusando insomma l'opposizione di esprimere generiche critiche senza costrutto. La maggioranza compatta ha dunque respinto il documento della minoranza in cui si esprimeva preoccupazione per l'iter seguito nella stesura del Masterplan in quanto prevede interventi parcializzati che ne vanificano l'efficacia e in cui si denunciava che i fondi europei della programmazione 2014-2020 sono totalmente inutilizzati e che quelli del Fondo Europeo per lo Sviluppo e la Coesione 2017-2020 rischiano il disimpegno. Occhi puntati sulle aree interne, la regione Abruzzo ne è costituita per il 60%, aree che molto troppo spesso lamentano difficoltà e poca visibilità sui temi caldi come infrastrutture, sanità e impresa. Nasce così una specifica voce destinata a colmare questi vulnus che oggi ha visto a confronto sindacati, sindaci e istituzioni regionali. Noi dobbiamo fare in modo che in quella parte di territorio arrivino risorse che possano permettere uno sviluppo adeguato. Io ho detto prima il convegno e lo ripeto qui non ci può essere sviluppo di una collettività, sviluppo di un territorio, sviluppo di una regione se una parte di quella regione, una parte di quella collettività viene lasciata lì abbandonata. Noi dobbiamo fare in modo che quella parte abbia le necessarie risorse per rimettersi in cammino. Fondi da destinare al rilancio delle aree interne, una necessità che seguirà precise priorità di intervento. Intanto abbiamo i fondi strutturali e quindi FSE, FESR e FEASR e sui fondi strutturali stiamo facendo una politica ad hoc per le aree interne perché una piccola fetta di quei fondi andrà ad essere indirizzata in modo esclusivo sulle aree interne. Particolare attenzione avremo sulle aree interne per quanto riguarda naturalmente la sanità. Sappiamo che ci sono dei finanziamenti e attraverso quei finanziamenti bersaglieremo una parte delle aree interne. Io credo che dobbiamo fare del tutto per far sì che soprattutto in quelle aree nei servizi principali che sono i servizi di cittadinanza come trasporti, scuole e sanità si raggiunga un livello di assistenza assolutamente adeguato. In tutte le aziende è cresciuta l'esigenza di una sempre maggiore tutela dell'incolumità delle risorse umane, del patrimonio aziendale e della riservatezza dei dati sensibili. In uno scenario in cui restano comunque preoccupanti i numeri relativi agli infortuni sul lavoro e aumenta per le aziende che operano nei mercati globali il rischio rappresentato dal terrorismo e dalla criminalità. Tutti aspetti di un unico problema a cui è stato dedicato un convegno nazionale all'auditorium della Guardia di Finanza all'Aquila incentrato sulla strategia della sicurezza integrata con la partecipazione dei massimi esperti nei settori della security, del safety aziendale e dell'intelligence, tra i quali anche il capo della polizia Franco Gabrielli un ritorno per lui all'Aquila dove ha ricoperto l'incarico di prefetto nel difficile post terremoto. Per Maurizio Ardingo del Consiglio Nazionale dell'Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza la strategia da perseguire è quella di integrare e coordinare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Con noi da questo convegno ci aspettiamo che ci possa essere un'accelerazione un'accelerazione che integri sinergicamente questi tre mondi le figure del safety manager, del security manager affinché la sicurezza sia globale non solo nei luoghi di lavoro ma negli ambienti di vita. Facciamo un caso emblematico. Io ho avuto l'anno passato la fortuna di essere il safety manager di Expo Milano 2015 noi lì avevamo un'intelligence e una security che hanno funzionato perché sostanzialmente se noi non abbiamo avuto la bomba nel sito è perché loro sono stati bravi avevamo di controllo ai varchi, avevamo un'intelligence che funzionava ma qualora avessero bucato l'intelligence era chiaro che noi safety con le forze dell'ordine dovevamo comunque intervenire tant'è che abbiamo redatto 18 scenari emergenziali e li abbiamo testati tutti nel semestre di Milano. Questo è un modo sinergico di vedere la sicurezza globale a 360 gradi. Vorrei chiedere al professoressa Marinelli che ha fatto della Sindone una ragione di vita perché ha dedicato... Da più di 40 anni studiosa della Sindone, Emanuela Marinelli sarà ospite all'Aquila a sabato 24 settembre del convegno dal titolo Sacra Sindone, indagine moderna dell'antico mistero che si svolgerà all'auditorium del Parco del Castello dalle ore 10. Il mio ruolo è soprattutto un ruolo di divulgazione, non ho fatto io scoperte mie sulla Sindone ma è già un grossissimo lavoro far conoscere le scoperte degli altri per questo ho scritto 17 libri, adesso sto scrivendo il mio 18esimo libro e insieme a mio fratello ho aperto il primo sito internet sulla Sindone in Italia che ormai esiste dal 97, ho aperto la prima pagina Facebook sulla Sindone, amici della Sindone per far conoscere questi studi che se no restano confinati a pochi esperti. Emanuela Marinelli farà un confronto tra le scoperte scientifiche e le leggende sul prezioso sudario. Ma poi sulla Sindone oltre l'Alo e la Mirra sono state scoperte altre micro tracce per esempio di aragonite, un minerale che si trova nelle grotte e l'aragonite trovata sulla Sindone è identica all'aragonite delle grotte di Gerusalemme. E poi un particolare, un dettaglio che nessun contraffattore avrebbe mai inventato in un'epoca in cui non esisteva il microscopio, all'altezza del naso, sulla punta del naso e alle ginocchia il sangue è strammisto a terriccio, prova che quest'uomo è anche caduto. Cosa che il Vangelo non dice, è stata la tradizione con la Via Crucis che ci ha affidato le cadute di Gesù, ma sono verosimili anche se il Vangelo non ne parla. Insieme alla dottoressa Marinelli ci sarà anche la dottoressa Rita Libertini che contestualizzerà la Sindone rispetto alla figura di Gesù, tra storia e fonti. Grazie a tutti!